I diritti fondamentali dell'essere umano non possono essere violati. Ma lei pensa che questa sia una democrazia sospesa, come qualcuno dice? No, sinceramente adesso il mio pensiero è che non si possono violare... Lei oggi è qui a parlare, quindi siamo ancora una grande democrazia, poi io spero di ospitare chi è che può essere eretico. Beh, siamo in democrazia se non verrò punita. Se sarò punita, cacciata, sospesa, non siamo in democrazia. Mi consenta. Beh, lei sa che fa parte di un corpo che ha delle regole. Ma allora non posso più parlare. Siccome sono una poliziotta non posso più parlare. Allora vado via dalla polizia. Guardi, io non vado via dalla polizia perché i miei colleghi credono in me e non posso abbandonarli. Non posso abbandonarli. Non posso scappare. Io facevo l'avvocato, quindi un altro mestiere ce l'ho. Devo ringraziare per essere qui noi. La saluto. Rimanga qui vicino.